16 16 16 16 Ma non è andato a sto posto C'è il negozio lì? Eh Ma c'è anche il parcheggio dove arriva altra gente? Eh Ma tu non c'è arriva nessuno Eh no, mi serve che ci arrivi per vendere la navice Halle, capito? Ah, eh Capito E lì non c'è, mi ha detto No, non c'è però non arrivano astronavi perché il pianeta è abbandonato Sì? Eh Eh sì Vuoi far sapere che pianeta è abbandonato? Eh Si vede, c'è scritto edificio abbandonato, edificio abbandonato sono tutti negozi, quindi Ma adesso è sottoterra praticamente eh Non so sottoterra C'è nemmeno se tante grotte con quelle palle Non me ne segno Ho bisogno di trovare quell'affare lì Negozi Negozi c'era dove ero io E vendono e vendono però Eh ma negozi Eh no Pianeta E ando a veder lì Pianeta Paradiso c'era mi pare qui eh Sì No c'è l'acqua e basta in Pianeta Paradiso Completamente? Quasi completamente sì C'è un isolotto tipo per l'astronave e basta Comunque non c'è da un'occhiata Perchè c'ho un pianto di produzione anche Come un bersaglio Io so che di ora non ho bisogno Perchè tanto questa nave l'ho reoperata Devo solo fare materiali nello spazio Beh Il panio, l'ammonio, questa roba vista, il platino Per preparare la nave? Ma devo fare la ferrite, ecco cosa Ferrite la trovo su un altro pianeta anche questo marotto coglione Frequenza contatto sconosciuto Cosa? Mi sa già ne arrivo? È pubblicato l'estronave? C'è un po' di teatraria comunque sul pianeta I pianeti Paradiso sono veramente belli comunque C'è l'acqua e basta? C'è l'acqua e basta comunque? Perchè te sei stato in un posto solo con l'acqua ma se lo giravi un pochino? Ah È tipo continentale Aia navici Aia Qui ci sono le sentinelle che rompono il cazzo lo sapevo Qui sta meno male o ci sono andata Perchè 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 Vai, 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 SPACCA! Si esalta... Arrivo subito, vado a prendere un filo. No, no, non ci entro nemmeno. Faccio un FK anche io. Faccio un FK. Eccomi. Ciao. Stegosauri di buono. Sei trovato? Stegosauri. Vai, da un po' al tuo Terentine, un picco molto. E poi delle ombre volanti. Esce che volano. Sì. Bellini. Eh. Sì. 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 Ti stai andando sul segnale? No. Ho riparato il cannone. No, posso raccogliere materiali nel mio spazio. Sì. 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 quando cerchi una osa non la trovi, non c'è verso vai davvero come il mio primo ai sassi cazzo è sta roba piccolo insediamento cerco era buono che avevo fatto la base peccato che ho dovuto cancellarla eh ed è hanno robinato tutto si è bugata non si è bugata si si lo rifatto ora non si è bugata è proprio il gioco forse non ce l'ho fatto il polimento eh e comunque questo sistema è abbastanza disabilita eccolo ho trovato una città finalmente eh la faci una base qui ci faccio una base vieni grossa anche proprio una città buono te ancora oro falle ma si attacca un sacco di negozi dentro dai si ah me ne dove sono io se poi ho trovato un rilevatore di anomalie beh sto cercando di fare questi materiali ammonio quella roba lì è difficile da trovare anche nello spazio beh che palle è arrivate vai 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 oh ho trovato un oggetto nello spazio profondo che cazzo è il tuo padre dell'oceano ciò si ha una teschia gigante nel mezzo dello spazio beh l'ho un po' evocato no ma devi venisci ora eh ora siamo qui in questa città e tu vado a tomba del ride dell'oceano aspetta che può fare non lo so ci sto entrando dentro donna elargita scheletro eccezionale uno ma sono uno scheletro boia cosa ha circa 281 mila anni ed è fatto di oro puro le ossa sono diverse da quelle di qualsiasi creatura terrestre e sono i resti di un vero leviatano dello spazio profondo valore totale un milione davvero? si che culo e l'ho trovato distruggendo i cosi i minerali fuori eh beh è stranissimo è tipo un teschio di leviatano è lo di grande? ma è una vicella no? no no ci sono nel passato dentro attraverso però per riscuoterlo ah io c'ho bello un pezzo di scheletro c'è un milione ora no no non ce l'ho ancora un milione cazzo come devi fare? sono arrivati i pirati eh ti buttano giù non hai detto magari le hai avviso non so su che pianeta sto andando vieni a vedere qua dove sono io che c'è un sacco di negozi di potenziamenti ci arrivo si ho la stranabile amica delle arcane eh ti buttano giù ho un'arma sola vedo se riesco arrivata a te fai il chiume qui vengono microprocessori sto cercando di arrivare ciao è proprio di struttura questa non c'era una volta lì c'è la grande il grande computer di V-Can c'è sempre da andare ci si impara un sacco di ose ma non è attiva questa base si si, non è attiva il parcheggio sono negozi, ci sono tutti vedi laggiù quell'affare che gira dove vai? dove vai? dove vai? dove vai? sempre avanti laggiù vedi quell'affare che gira è un grande database di dati questo? no, no, quello più avanti quello affare più avanti ah, nel mezzo? si camera ancestrale tu ci sei andato? no, ci vado ora vediamo si, capisce? eh, si, grazie ecco aiuto ah, io vedo cosa fai te, sai? si? no, sei proprio bloccato te sei fermo ora? con gra, con gra eh? si, sto andando avanti io no, non posso non ho chiedato qui no, no va bene voglio salvare mi cazzo si è buggato perché si è arrivato un due dovevi? nooo, aspetti un attimo nooo, aspetti un attimo prova ora? non posso fare niente non posso fare niente ti è buggato ti mi vedi muove? si ehi salve salve bello e uscì a windows proprio capito? eh, mi sa di sì qui a darete a tutti il quindicero di guida 12 di là 8 di là 25 di là è tutto eh, lo so no, ma Sky è tanta roba, eh ma fattori avete fatto altro poi? no no, sono rimasto lì perché non sapevo a che punto ero arrivato e poi ho visto l'uscita la patch di questo viene bisogna abbandonare il pianeta no, io da me è un ciò giocato quindi non lo so un semplice giocato quando c'era qualcuno mi sembra più giocato da solo no, c'era giovedo aspetta, sto cercando oh, specchio solare ieri faccio un fk e si becca dopo ah, ok pensavo tu giocassi più a scammora e poi non te l'ho nemmeno più chiesto ma sai più che altro ho giocato anche ho preso anche arma costava 6 euro e ho fatto anche una partita a quello quando si giova si giova ora ovviamente c'è delle osse ma attirano di più qualcosa meno però ma certo eh, chiedo dopo un po' che ho giocato a Factorio ma sempre la visuale in 2D mi sta un po' fondendo il cervello però ve lo ti dicevo ho bisogno di un attimo di un mondo in 3D per diventare no, effettivamente di scamm sono un po' più così dice ti ha levato la voglia no al contrario nel senso sono più più volenterosi c'ho la scamm mi ci va però anche lì se sei da solo è che è critia è critia e ti diverti anche meno no impressionamento quindi ora per essere sicuro ci sia sempre uno da aspettare che Ceppino si trasferisca definitivamente ma non ce l'ho ancora fatta a trasferirsi per tutto no gli hanno ritardato sono venuti a montargli la uscina c'è l'IKEA c'è un pezzo sbagliato e quel pezzo lì si che ha dovuto rimandare a quello del marmo per fargli il piano sopra della uscina quindi guarda non ce la fa non ce la fa ora ha detto gli va più là Ardaia arriva in blocco fisso l'Ardaia si che ora ci ha dovuto richiamare anche quello dell'Ardaia Filippanio dove andrò lì è interessante alla fine 150 paraffino basta mirare un po' di materie base progetti scudo reticolare insomma membrana di aerazione per quella subacquea carne ionizzata potenzialmente boardcaster ce l'ho già poca roba c'è un cazzo cosa c'è un emissario emissario vuole farla con me qui ci faccio ci costruisco la casa guarda dove c'è la base dove c'è il computer aspetta hai già parlato con tutti i stai nei pc? si però non vedo non vedo l'astronave a terra hai capito? si nemmeno io non me la dà perché è bloccata perché è bloccata in qualche modo questa base se ne è blocco se ne è blocco si si fa sbloccare doveva essere il modo boh privato io l'ho messo a scariamo e non metto niente eh messo a scariamo niente no tranquilli oddio 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 ha visto il verme? il verme sopra oh cazzo che ti dicevo è enorme è enorme si reale minchia questa prima mi si è bloccata ho comprato la mappa traccia rotta mentre ho fatto traccia rotta prima mi si è piantata rilevate antiche rovine mi si faccia una bella casina sai però è in blocco rieccolo oddio vola praticamente vola vola fatti spetti enormi da noia è in blocco si questa stazione decisi averlo eh non lo so no non credo oh laser minero avanzato mi serviva per estrarre anche la roba non posso fare quel giogno delle navi capito? non posso fare quel giogno delle navi? eh no perché è in blocco devo trovare un'altra faccenda non su questo pianeta però perché? perché qui non c'è un cazzo ah no a parte che c'è il pianeta paradiso sbagliamo anche l'altro si ma non è che ci sia molto comunque anche qui eh non so che con quale grazia divina mi ha fatto trovare quella città lì però è spenta è vero non c'è traffico è buggata comunque secondo me in qualche modo intanto vado a vedere questa antichirovina se tu trovo altro dio ma dove sono? hai vista la nave mia poi? si mi sembra quella mi sembrava quella che c'è prima come te? questa è cilindrica c'è la cabina di piutaggio e sopra hubo chi è? eh un uomo nero dè un uomo nero che compra nome sky bene vermi giganti navi stazioni in blocco chi altro che paradiso questo è imperno anche qui ci sono dei vermi giganti che vanno cioè ti passano sopra la testa fanno dei salti enormi fai un topo tipo 5-6 km saltano per aria atterrano dall'altra parte nel nero minimo eh ma ora non so se li becco eh bufale ho cambiato anche nave cosa c'è? ma che bella è la mia nave dildo ma che bella è la mia nave dildo hai fatto a te? no l'ho trovata no l'ho trovata l'ho scambiata la sto riparando perché dentro c'è roba rotta che occupa slot a me l'ho ricevuto addosso alle meteorie che vorrebbe essere distruggi potenzialmente non siete mai no dipende se ci troviamo si per l'indicatore è buono no ma noi al mattino turma grazie venda è che mi ha visto un cazzo se non doveva prendere quello che ha visto ma Ion che c'hai Ion? pianeta sotto zero ma si chiama Ion? maion nese maia 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 Grazie.